Ha un forte senso del dovere. Si preoccupa solo di se stesso. Dico sempre cosa ho in mente. Non è una bella cosa da dire. Questo non è una bella cosa da dire. Queste patatine sono morbide. Non possiamo risolvere questo problema? Non vado d'accordo con lei. Quando inizia la pausa estiva? Non hai ancora visto niente. Non hai ancora visto niente. Niente di complicato. Non ti agitare per niente. Dovremo andare alla festa stasera? Stanno facendo molto. Lo farò. Lo farò. Vorrei una camera per non fumatori. Quello grande o quello piccolo. Tuo marito è di Toronto. Questa è la stanza 811. Questa è la stanza 811. Questa è la stanza 811. Stavo solo pensando. Mi dispiace di non poterlo fare. Mi dispiace di non poterlo fare. Non posso vivere senza di te. Sono davvero felice per te. Sono davvero felice per te. Sono davvero felice per te. Metti via quel pigiama. Put those pigiama away. Put those pigiama away. Ho sentito che John si è sposato. Adesso è su un'altra linea. Adesso è su un'altra linea. Potresti mandare qualcuno. Non so come dirlo. Fu amore a prima vista. Fu amore a prima vista. È di fronte al municipio. È di fronte al municipio. È a fronte al municipio. È di fronte al municipio. Non c'è altro che io possa fare. Potresti dirmi quanto costa? Potresti dirmi quanto costa? Ci crederò quando lo vedrò. I will believe that when I see it. Ho sentito attraverso la vigna. I heard it through the grapevine. Vestito per bambini. Children dress. Children dress. Se ti piace, posso comprare di più. If you like it, I can buy more. If you like it, I can buy more. Mi può consigliare un buon ristorante? Can you recommend a good restaurant? Pensavo avesse detto qualcos'altro. Per favore portami a questo indirizzo. Sai dove posso prendere un taxi? Do you know where I can get a taxi? Do you know where I can get a taxi? Quando arrivi nel Regno Unito? When do you arrive in UK? Stavo andando in biblioteca. I was going to the library. I was going to the library. È più lungo di due ore. It's longer than two hours. Lascia che i vecchi siano passati. Mi dispiace averti disturbato. Non dubito che mi aiuterà. I don't doubt that he will help me. Non intendevo fare del male. Sono una persona gatto. I'm a cat person. Sono felice di poterti aiutare. Sono felice di poter 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 aiutare. Sto mantenendo un segreto. I'm keeping a secret. I'm keeping a secret. Grazie per averlo detto. Grazie per averlo detto. Thanks for saying so. Hai lasciato la luce accesa. Non preoccuparti, succede. Non preoccuparti, succede. Sono uno sconosciuto anche qui. Sono uno sconosciuto anche qui. Rachel è lì, per favore. Is Rachel there, please? Is Rachel there, please? Sono già le sei. Si prega di spazzare il pavimento. Non sottovalutarlo. Non sottovalutarlo. Non sottovalutarlo. Do you like sweets, don't you? Do you like sweets, don't you? Non andiamo più d'accordo. We don't get along anymore. We don't get along anymore. A che ora stiamo iniziando? What time are we starting? Non voglio più parlare. I don't want to talk anymore. Penso che sia molto amichevole. I think she's very friendly. Mi chiedo che cos'è questo odore? I wonder what that smell is. E' accanto alla caffetteria. It's beside the coffee shop. E' il nostro decimo anniversario. Ti stiamo inviando un'e-mail. Ho perso interesse per il mio lavoro. E' la quarta fermata da qui. Andiamo in Europa quest'estate. Che spreco di tempo e denaro. Hai delle obiezioni adesso? Come pronunci questa parola? Come pronunci questa parola? Ti dirò tutti i dettagli. Sei l'unico che l'ha detto. Edipolorevole. E' depolorevole. E' depolorevole. E' depolorevole. È depolorevole. È depolorevole. Dimenderemo noi. Ho la febbre. Sono fiero di te. Funzionerà. It'll do the trick. Penso di aver bisogno di vedere un medico. Penso di aver bisogno di vedere un medico. C'è un libro sotto il tavolo. Sai dove sono i miei occhiali? Il cancro è una malattia mortale. Il cancro è una malattia mortale. Li condusse giù per la montagna. Fa tutto senza scopo. Parlare con te è un piacere. Mi verrai a prendere a casa mia? Soffri di allergia? Do you're suffering from an allergy? Do you're suffering from an allergy? Qualcuno bussa la porta. Somebody's knocking at the door. Somebody's knocking at the door. Tale padre, tale figlio. Like father, like son. Like father, like son. Va bene, ma non rovinarlo. Ok, but don't ruin it. Ok, but don't ruin it. Un'altra birra, per favore. One more beer, please. One more beer, please. Sta arrivando un tifone. A typhoon is on its way. A typhoon is on its way. Per riferimento futuro. For future reference. For future reference. È fuori, a sinistra. 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 A cosa serve questo importo? What is this amount for? What is this amount for? Grazie a tutti.